buongiorno da ilenia e da morgana e dalla pusola ciao ciao pusola oggi abbiamo due novità visto che l'altra volta sul mio divanello mi hai trovato ilenia e io adesso sono della morgana è certo che sei della morgana oggi abbiamo due lil ma che lil sono le lil della serie 4 ai spy io voglio trovare lei lei è il kansas sì anche lei perché abbiamo la sua sorellona visto che sono due lil una le apre l'elena e l'altra la prima morgana così proprio partiamo in quarta quindi io apro questa? sì apri quella ma oggi per il bebì non c'è no perché mi doveva andare a comprare la sabbietta nuova e i croccantini pure e poi mi doveva comprare aspetta non me lo ricordo ah vabbè vai a dormire va a farti una dormita ok visto che io sono la pusola della snuggle bb vado a dormire notte notte apriamo in contemporanea mu? no no una una apro chi parte? tu visto che adesso abbiamo due lenti di ingrandimento ehi sto che fortuna anche di più di qua qua è già rotta vabbè allora aspetta che abbassiamo un po' ole qua abbiamo già l'indizio portata di mano non lo so adesso quando riesco ad aprire bene allora ma già non riuscirò ad abituarmi abbiamo un cane e un cuore e è pet lover pet lover ma in teoria doppia non è allora intanto la fucsia la bolla è fucsia wow bella intanto ce l'ho andata a prendere la cesta si ho visto che sei scomparsa per un attimino tu dai chi era l'indizio? pet lovers non mi sembra che l'abbiamo trovato quello no vabbè io non sono capace di aprirle voi ormai tigre vogliatemi bene così mamma tigre sa per entrare in uno dei contenitori eh lascialo tanto lui è quello è quello dei contenitori quindi l'ennesima cosa qua le nostre istruzioni il cerchio lo apriamo giusto per ma eccolo qua qua abbiamo la checklist qui c'è una borsa qui c'è delle scarpine e qua abbiamo la nostra lillina oh mamma non li fa capire sai è in piedi comunque allora io direi apriamo la la borsa no non lo dico chi è ma io ho già capito chi è io ho già capito chi è la borsa è quella della quinta con la sua con la sua Louise Vuitton arcobaleno intanto c'è Joy che sta facendo spettacolo burdell no Morgana mi è caduta una scarpina qua sotto è andata scusate ma la diretta l'hai trovata? grazie la diretta no non è la diretta vabbè la diretta del video facciamole vedere sono ma adesso gli mettono tutti questi specie di zoccolini qua anch'io ce li ho e infatti sembrano quelli di Trilli intanto non mi metti a fuoco Morgana che volevo farle vedere eccole qua oh la e niente io vado con lei dopo ve la faccio vedere dalla checklist perché sono contentissima oh quanto è carina quanto è bella è bucciota vediamo adesso ve la faccio vedere così vediamo se capite chi è un po' grossa un po' troppo grossa vediamo l'altra c'è dove l'ho buttata grazie scusi figlia ma sa che io allora ve la faccio vedere lei fa parte dello storybook club ed è Lil Kansas Qt e la sottoscritta è yeah super felice happy si sono contenta perché mi piaceva adesso l'ideale sarebbe trovare la Lil 80 BB io la chiamo 80 so che non si dice così ma questa la quella con tutti i capelli colorati del pop club si prego io sono felicissima ma con la con la pulsera ehi piccolina vieni a venire con me andiamo ma tu sei sull'indizio è famosa lei scarpe le mettiamo dentro e tu le mettiamo sotto il divanello ok abbassiamo ecco la seconda Morgana eccola qua a te chi piacerebbe trovare mo la Lil teams bellina però sai che secondo me è una di quelle che si farà fatica a trovare lei perché ne ho viste poche la Lil Pop Earth la Lil e falla vedere anche alle ragazze perché se fuori non si vede lei ah quella che c'è sulla scatola cioè praticamente sull'immagine della delle roll della quarta serie la Spike non sarebbe male trovarla non mi convince lei chi è? a me la Lady Queen la Lady Gaga la Lady Gaga dai vai mo felice già sono felice così io e poi i colini sono carinissimi i colini no sono troppo Morgana non mi sembra vero la sto vedendo qua non mi sembra vero pensa che c'è stato un giorno che volevo sul gruppo volevo quasi prenderlo no è solo che la vendevano a un prezzo un po' troppo elevato e l'ho lasciato perdere no guarda felicissima buccio l'arancia e meno male che la sbucci pure tu bambina vai lente l'ingrandimento mette fuoco mette fuoco ciliegie e bomba cherry bomb cos'è cherry bomb eh però non ho la minima idea di chi possa essere è dentro l'abbiamo trovato cherry bomb cherry bomb l'abbiamo già trovato? si mi sembra va bene vai Morgana se le doppie te le tieni tu pensa che fortuna ultimamente che le doppie te le tieni poi un giorno faremo anche un video con tutte le lilline hai già detto sarà un video di sei oh rosa sarà un video di sei mila ore perché di lilline ne abbiamo tante hai fatto la scatola con tutte quelle che abbiamo abbiamo un cane quattro serie ma il rosso sta entrando nella scatola tigre guarda lascialo lascialo no è piena no lascialo ok è dentro povero red è dentro ecco lo useremo come immagine di copertina come abbiamo fatto l'altra volta ecco l'altra scatola scusate se nel frattempo vedete lo sfondo che si muove ma ho detto un strap può essere non dimmi che mi ha spaccato la scatola si l'ha spaccata? un petto no dai è inca è inca l'ultima volta inca aspetta no povero mia aspetta vai no scusate qua è il bello della diretta no ma rendetevi conto di cosa abbiamo qua guardate e ditemi e ditemi se si può avere un gatto così è che se gli metti il dito poi ti graffia pure lasciamolo così ok lasciamolo così niente dai lui deve essere a niente cioè deve far partire lo sfondo tigre ah ma l'ha rotta qua vedi che ho sentito guarda Morgana guarda che ti graffia ok vabbè facciamo il video con la coda che si muove ok andiamo avanti va 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 guarda se rimane dentro sarà la foto brava oh se rimane dentro sarà la foto di copertina del prossimo video eh sì l'altra volta l'ho fatta con l'altra cosa dentro qua ma era in piedi e ci stava e qua è più piccolo no ma tigre guarda che sei un non ti dico cosa sei calma calma bambini eh perché sono tutta è in piedi è seduta è in piedi è seduta è sdraiata è seduta non lo so non lo so chi può essere verdis ciurlin verdis intanto tigre ha appettato la strana comunque non puoi vedere non puoi vedere non puoi vedere mamma vai Morganella hai visto? no brava bello guarda meno male che c'è quell'anello lì perché c'è uno senza l'anello ma quanta roba c'è dentro? è una borsa ha la borsa ha la borsa vai 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 intanto c'è la coda di rosso tigre red è leopardata come leopardata? è leopardata mamma quant'è bella ma non ho capito chi è non l'ho mai vista sta borsa facciamo vedere bene sì la borsa l'ho vista mamma in honey no honey bun sì la facchezza della borsa ma la stampa della borsa così wow 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 very good poi scusate ma il mio guarda che adesso è arrivata la kitty gelosissima perché tigre ma si può fare un video con una coda che si muove? ho già capito chi è ho già capito oh la bellezza unica è del pop club sì quindi ci siamo andati vicini a quella che volevo io organo e te te le devo mettere subito gli occhiali fuori onda fuori onda dai carmelinda oh mio dio ciao ragazzi no è troppo bella ciao si li posso mettere io io chiami aspetta si perché almeno lei la facciamo vedere si allora lei è questa Morgana diciamolo è la è la Lil Firs è del pop club non mi sta bene fatti vedere non mi sta bene no stai bene non mi piace è del pop club quindi siamo andate molto vicine a quella che volevo io manco la cansa se non gli vanno bene guarda a lei li cadono giù a lei si sono ah qua guarda gli usciranno sicuramente le macchioline io direi ah ma guarda quante treccine che ha sono tutte treccine fantastica io direi di metterle in frizzera fermiamoci due secondi che le mettiamo in frizzera e vediamo il cambio a colore arriviamo subito allora rieccoci buttiamo fuori arriva le cansa prendilo in mano dai capelli dai capelli ah ok perché anche dietro cambia ah guarda anche dietro qua riescono non riesco a farvela vedere eccola qua dei cuori le calcine e la maglietta eh Morgana hai una parola e nella X dietro gli viene fuori il disegno della la cartina si guarda non si cambia colore fa talmente caldo portate pazienza comunque va tempo zero è già tornata come era prima arriva la leonessa vediamo mettila eh wow che bella gli viene i pantaloni i leggings i leggings qua si fanno il leopardato e anche dietro viene fuori il leopardato bella molto bella io la metto nella borsa belle ci piacciono nel frattempo se avete notato il tigre è uscito c'è mezzo c'è mezzo spaccato la scatola tanto non ci serve come sfondo quindi eh sì ecco nel frattempo è arrivata Fifi Fifi eccola lì qua è tutto un assortimento intanto c'è kitty che sta dormendo sulle carte non ve la faccio vedere e vabbè quindi a noi sono piaciute tantissimo queste lille diteci se vi sono piaciute quale avete preferito tutte e due se le avete se non le avete se le comprate se avete lui se avete o lei lei le 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 skunk bebe le pussele le pussele le pussele vabbè vi salutiamo vi mandiamo un bacione grosso mettete un like un pollice in su come preferite voi e riusciremo prima o poi a fare un video saluti ecco siete in tanti e riusciremo prima o poi a fare solo magari un video saluti poi adesso fate hashtag la puzzola hashtag la puzzola la puzzola la puzzola e lille e Fifi sì e uno scrive giù un tema allora hashtag la puzzola vabbè salutiamo sì ciao 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 ciao